L'Italia, che si è dotata anch'essa di una strategia specifica per la bioeconomia nel 2017, ha un ruolo di primo piano nel settore, in particolare in quello della chimica da biomasse. Il suo approccio unico sta facendo scuole in Europa ed è un modello virtuoso di collaborazione tra imprese, mondo agricolo e mondo della ricerca. Un esempio in questo senso è SPRING, che è il Cluster Tecnologico Nazionale per la Chimica Verde, che nasce su spinta del Ministero della Ricerca e dell'Istruzione per valorizzare i territori, facilitando la connessione tra le regioni, le università, i centri di ricerca, le associazioni e il mondo dell'industria, attraverso una cooperazione che permetta ai diversi soggetti di sviluppare progetti multidisciplinari ed innovazione, con l'ambizione di rendere l'Italia uno dei poli di eccellenza della bioeconomia nel mondo. Novamont, che è un'azienda pioniera nel settore della bioeconomia, vede in questo nuovo modello di sviluppo sostenibile un'opportunità di rigenerazione dei territori e l'innovazione fondamentale per realizzare la transizione da una produzione industriale basata sull'uso di risorse fossili ad una economia basata sull'utilizzo di fonti rinnovabili, avendo cura degli ecosistemi e creando valore sui territori. Grazie